Ok, allora partiamo. Intanto sono molto contento di fare questa cosa insieme con Paolo. Abbiamo appena terminato un percorso insieme che secondo me è stato molto bello e molto soddisfacente da tantissimi punti di vista. Adesso ne parleremo. Do una piccolissima introduzione per le persone che vedranno poi questo video di quello appunto, il tipo di percorso che ha fatto Paolo, che è appunto il percorso immersivo. È un percorso che io svolgo con poche persone per proprio l'impegno che viene preso nell'arco di tre mesi. È un percorso che appunto si dipana lungo l'arco di tre mesi. Ci sono consulenze settimanali e meditazioni bisettimanali. In più c'è il mio videocorso completo Oltre l'ansia e la possibilità di sentirsi al di fuori delle sedute. Quindi questo è il percorso che Paolo ha svolto insieme a me. Sono molto contento che lui oggi sia qui e che io gli possa fare alcune domande per parlare appunto di quello che è il lavoro che abbiamo fatto insieme e che è arrivato a conclusione adesso. Intanto ti do il benvenuto e ti ringrazio per aver dato appunto e dare adesso la tua testimonianza del lavoro che abbiamo fatto insieme. Ti chiedo Paolo di partire un attimino senza dare troppi dati su quella che era la tua situazione, però come all'inizio, prima di questo percorso, quali erano le difficoltà, le sensazioni che stavi vivendo di più? Se torniamo indietro nel tempo tre mesi fa. Beh diciamo che quello che è stato tre mesi fa oramai fa parte del passato, però diciamo che era una situazione dove mi sentivo smarrito, non avevo più la possibilità di capire chi ero. Quindi avevo paura di ogni minima cosa che normalmente facevo e quindi mi sono sentito smarrito, quindi smarrito e quindi in ricerca di una guida. Ok, quando dici smarrito ti ricordi un po' anche le sensazioni principali che ti ritrovai a vivere a quei tempi? Beh diciamo le sensazioni sono gli attacchi di panico, gli attacchi di calore, le tensioni che si sono create allorquando svolgevo anche le cose ordinarie, quindi lavorative, di viaggio, che quindi venivano complicate da queste sensazioni corporee che purtroppo mi hanno fatto perdere il senso della ragione. Quindi prevalevano sulla mente, cioè sul razionale, dicevano immaginare situazioni catastrofiche. Quindi questa era un po' la premessa. E mi ricordo che c'erano anche tante cose che la mente presentava come molto minacciose e ti avevano portato al punto di evitare tanti aspetti, rinunciare ad alcune cose importanti o viverle con un'attesa, una preoccupazione molto elevata. Eh sì, in quelle situazioni lì dove hai paura della novità, hai paura anche di spostarti, cioè è evidente che ogni novella è una minaccia e quindi applicavo le tecniche dell'evitamento, cioè cosa che, anziché fare per dire la strada maestra, quindi andavo con Google Map e magari vedevo delle strade diverse che magari mi evitavano di stare da solo in macchina, quindi o in autostrada e quindi ti facevano poi provare situazioni, diciamo, spiacevoli da vivere da solo in macchina, ecco, tutto qui. Mi ricordo anche quando mi parlavi all'inizio di alcune cene o incontri di lavoro che evitavi o che ritardavi. Allora, cioè lì è evidente che nel momento in cui si era creata oramai, cioè la mente, le sensazioni corporee erano il 90%, erano diciamo in un certo senso predominanti, è evidente che la mia vita era limitata e quindi non riuscivo a vedere oltre e quindi riuscivo a vedere oltre significa che ogni minima poi sensazione, anche minima, mi impediva di stare con gli altri, magari di fare anche degli appuntamenti di lavoro e quindi magari anche di mangiare normalmente in un ristorante, proprio perché c'era l'attacco-fuga, cioè nel senso quando necessariamente entravo in un posto, cioè anche familiare, avevo questa necessità di tornare nel luogo protetto che poteva essere o quello lavorativo oppure quello di casa e quindi quei momenti lì era di attacco-fuga, quindi erano minuti dove dovevo fare cose di fretta e quindi mangiavo in fretta, se riuscivo a mangiare, ma più delle volte è capitato che quindi mi sono seduto al tavolo e quindi si è chiuso lo stomaco e quindi anche lì era imbarazzante con gli altri esporre queste mie problematiche, perché tutti chiedevano come mai non mangi visto che hai sempre mangiato e ricordi anzi che mangiavi di più e quindi per dire anche fare la spesa al supermercato, cioè la prima cosa che ricordo era la via d'uscita, dove è la via d'uscita, appena entravo dove è la via d'uscita, quindi la paura di rimanere bloccato all'interno del supermercato, del negozio e poi soprattutto cioè vedere la via d'uscita dove era, perché era una situazione di pericolo. Ok, 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 chiaro, chiaro. Ti ricordi Paolo da quanto tempo era che avevi iniziato ad avere queste difficoltà con l'ansia e che cosa avevi provato a fare precedentemente? Allora, precedentemente non, come si dice, sono stati effettuati dei percorsi di psicoterapia però non, come possiamo dire, io lo definisco d'urto, cioè nel senso i colloqui psicologici secondo me sono relativi, perché era questo quello che avevo fatto in passato, però non ho mai, diciamo, avuto una guida che mi desse, diciamo, il coraggio di affrontare la situazione anche se ero nella situazione in cui ero. Ok. E quindi la differenza è lì, cioè nel senso che nel momento in cui qualcuno ha paura di qualcosa, cioè sì, se ne può parlare, però la soluzione a mio avviso è avere una guida che in un certo senso ti fa capire che stai guardando una realtà diversa. E che gli dà anche degli strumenti per poter raggiungere questa consapevolezza, immagino. Sì, degli strumenti, ovviamente, cioè era implicito nel senso del coraggio, perché dico questo? Perché, cioè a mio avviso ognuno di noi ha pensieri che possono essere positivi o negativi e quindi interpreta a modo suo. Poi in una particolare situazione di vita questi pensieri poi positivi o negativi possono incidere o possono penalizzare o possono... Però fondamentalmente questi strumenti, diciamo, mi hanno permesso di conoscere, diciamo, altre due, come possiamo dire, altre due visioni, che sono quelle appunto del consulente e dell'esploratore. Quindi l'idealizzare questi soggetti è come, per dire, parlare con loro e quindi dare una sorta di giustificazione a quello che stava accadendo. Per le persone che ascolteranno poi questo video, che magari non capiscono il termine consulente e esploratore, diciamo semplicemente, senza entrare nel dettaglio adesso, perché ci dilungheremo troppo, che parliamo di un esercizio, una tecnica specifica che abbiamo adottato e che è entrato subito in sintonia con le corde di Paolo e gli ha permesso di sbloccare tanti aspetti, che è quello un po' che adesso volevo chiederti, perché infatti io ritengo veramente che l'impegno che tu hai profuso in questo percorso sia stato eccezionale, proprio la volontà di rimetterti in gioco e che dimostrava quanto importante per te fosse sbloccarti un po' dalla situazione che si era creata allora. E soprattutto quello che abbiamo fatto insieme ha riscosso quello che ho notato, come ti avevo detto, che c'è stata subito corrispondenza tra di noi, quello che veniva fatto nelle sedute e come veniva poi applicato nella vita quotidiana. Quindi darti un'altra prospettiva con degli strumenti concreti per farti rimettere in gioco. E tu grazie a questa cosa sei riuscito a notare che già dentro di te avevi tantissime risorse. Sì, assolutamente sì. Allora ovviamente non è stato così facile adesso come ne stiamo parlando. Esatto, è importante sottolineare. Perché ovviamente c'è una persona che ha paura, non dico di uscire di casa, ma quasi affrontare situazioni nuove da solo o comunque rimettersi in gioco, quindi c'è molta volontà e insistenza. Quindi in più il vantaggio qual è stato? Quindi sapere che il cosetto consulente ti proponeva di essere in difesa e poi l'esploratore invece di andare a scoprire nuovi monti è stata la chiave di lettura, nel senso che bisogna porsi degli obiettivi. Quindi farlo oggi, farlo domani, quindi insistere, quindi è vero la sensazione, cosa accadeva? Cioè diminuiva man mano, quindi perché ovviamente la prima volta avevi non dico l'attacco di panico, ma quasi, la volta successiva diminuiva fino poi a, dopo tanto tempo ovviamente, non dopo due o tre volte, quindi dopo un mese, un mese e mezzo, ho iniziato a vedere i primi effetti positivi. E quindi il vivere adesso una situazione, cioè stare in una sorta di stato di tranquillità, a mio avviso è stato anche di peso dalla meditazione, perché nel momento in cui entriamo nello stato di meditazione, vediamo i pensieri dove sono e li lasciamo andare. Ecco, ci abbandoniamo e facciamo sì che praticamente ci sono i gatti che, ecco, adesso ci... Non preoccuparti, vai tranquillo, non fa niente, c'è qualche problema, qualche rumore, non c'è nessuno. E quindi diciamo che secondo me è stato, ecco, l'insistenza, ecco, quindi forse l'obiettivo e quindi seguire il cosiddetto consulente nel fare le cose, quindi non avere paura, sapendo che anche laddove la sensazione, diciamo, emergeva, comunque avevo un picco e quindi quel picco prima o poi sarebbe terminato. Poi a volte è durato anche mezz'ora, però sono stati quei momenti di, diciamo, di terrore, ma non terrore da fuggire o da chiamare, per dire, l'ambulanza o chiamare aiuto, ma quel terrore che ha permesso al corpo o alla mente di capire che in realtà era una tensione, quindi dare una gestificazione a quello che stava accadendo. E poi comunque tornare a casa, magari non tutte le sere, ma tornare a casa e stare anche 10-20 minuti con la meditazione ti faceva rivedere quello che avevi fatto durante la giornata e comunque i progressi che avevi avuto. E quindi mentalmente la mattina ti alzavi con la voglia, ecco, di fare le cose, quindi non con il timore o con la paura. E infatti dopo circa un mesetto, un mesetto e mezzo, cioè nel momento in cui mi si proponeva di fare delle cose nuove, quella è stata una cosa importante che ho notato. Ero praticamente, non dico indifferente, però ero, cioè dico va bene, invece prima ero terrorizzato, perché qualsiasi cosa nuova io la evitavo, perché era paurosa per me, era, minava, diciamo, il mio territorio. E più che altro, diciamo che mi portava poi a creare delle giustificazioni, quindi non posso, non riesco, e quindi mi facevano male. Nel momento in cui quindi ho iniziato questo percorso, cioè sono stato determinato, quindi è stato ecco duro, soprattutto il primo mese, perché poi avevo anche delle problematiche di tensione che rimanevano, quindi magari durante la notte, però, diciamo, rispetto all'uso anche dei farmaci che io, diciamo, non ritengo non applicabili per scelta, ritengo che è stata, diciamo, la chiave di lettura. Quindi adesso sono in una situazione, diciamo, tranquilla, quindi sto, diciamo, ritornando a quello che ero, diciamo, quasi un anno fa, e quindi sono alla ricerca di nuovi obiettivi. Questo è molto bello per me sentirlo, cioè il fatto sia che ti risenti come prima, diciamo, quell'episodio che c'è stato, che è stato poi l'esordio delle difficoltà, ma soprattutto con la volontà di andare e trovare nuovi obiettivi che poi si declineranno sull'area lavorativa e su altre aree che noi sappiamo essere importanti. Se dovessi dirmi quali sono le cose principali che ti senti che questo percorso insieme ti abbia consegnato, cioè il modo nuovo che tu hai acquisito un po' di affrontare, quelle che poi sono, che è la vita stessa e con le sue difficoltà. Allora, quello che, diciamo, mi è rimasto impresso è stato la consapevolezza che, diciamo, quello che io stavo subendo, ecco, quello che la mia mente, quindi, mi ha, in un certo senso, fatto credere, era falso, cioè era tutta una falsità, un'illusione, perché l'esploratore, il cosiddetto esploratore, è quella specie di entità che esiste e che ci deve dare ogni mattina l'obiettivo di cercare qualcosa di nuovo. E quindi è stato quello, secondo me, la chiave di lettura, cioè sapere che c'è qualcuno che ti, ecco, fai il tifo per te, che è appunto l'esploratore. C'è una parte dentro di noi che ci vuole spingere ad andare oltre, oltre le parole della nostra mente che invece tendono a basarsi sul passato e a tenerci bloccati. Noi abbiamo invece una parte dentro di noi alla quale possiamo fare accesso per andare ad esplorare e vedere effettivamente sul campo se abbiamo le capacità oppure no. Infatti, perché se non ci fosse stato l'esploratore, io, diciamo, sarei rimasto dovero. Quindi sapere che qualcuno fa il tifo per te, al di là poi dell'applicazione pratica, è stata la chiave, secondo me, di lettura. Lo fai la prima, lo fai la seconda, non hai paura. Poi, ovviamente, una volta che fai per dire una cosa grandiosa, ti rimane. Quindi io mi ricordo le prime volte che da solo, cioè, ritornavo a fare quello che facevo prima, dove mi ero un attimo perso precedentemente e mi ha dato proprio quella voglia, cioè, quell'entusiasmo per dire ma dove siamo, cioè, ma perché? Perché mi è successo? Quindi la differenza è questa, cioè, non bisogna mai, ecco, dare adito al cosiddetto consulente, che è il soggetto che è in difesa. E da quel momento in poi, anche quando ero stanco, quando avevo anche delle sensazioni, comunque le sensazioni non è che spariscono, restano, però c'è la consapevolezza della mente che sa che quel tipo di sensazione non è legato all'attacco di panico che sta arrivando, ma è legato magari alla stanchezza, magari al fatto che non hai dormito la notte, magari a delle preoccupazioni. E quindi sapere che la mente dà una spiegazione razionale mi ha permesso di, come si dice, andare oltre. Andare oltre quello che invece la mente mi aveva, ecco, in un certo senso ingabbiato. Esatto, esatto. Perché la chiave di lettura non è controllare, cioè controllare la sensazione, ma appunto guardarla, osservarla, perché la sensazione resta, cioè non nessuno ce la toglie, questo deve essere chiaro. Esatto, bravissimo. Quello che non riuscivo a capire anche io inizialmente è che la sensazione resta. Quindi ti può venire un attacco di calore, un attacco di tremore, io adesso, cioè, un attacco, oppure una sensazione di perdere il controllo delle gambe, non lo so, oppure, tutte sensazioni che sono però illusioni, cioè sono cose non reali che in realtà la mente ti fa credere e che non devi controllare. Quindi capitava all'inizio che nel momento in cui facevo dei percorsi o comunque delle strade oppure ero al ristorante e quindi avevo quella sensazione, lì che cosa ho fatto? Io non sono più scappato. Mi sono, ecco, rilassato e quindi dopo 5-10 minuti, cioè sembrava che ti era passato un tiro addosso, però ti rialzavi senza tensione e quindi tornavi poi dove dovevi tornare con una grande soddisfazione perché eri riuscito a stare in quel posto, magari a non spaventarti, a non avere il cellulare in mano, perché l'altra cosa da sottolineare è che nel momento in cui mi muovevo avevo bisogno di avere il cellulare vicino perché se succedeva qualcosa dovevo chiamare qualcuno, ho sbagliato. Adesso infatti io il cellulare lo uso pochissimo proprio perché sto, diciamo, ricostruendo la mia identità. Cioè noi dobbiamo assolutamente a mio avviso basarci su noi stessi, non sugli altri. E come ti dicevo, io prima avevo paura dell'aereo, ma solo a pensarci. Adesso invece sto entrando nell'ottica di, diciamo ecco, di andare in altezza perché è una sensazione, cioè è un qualcosa che prima, cioè al solo pensiero mi spaventava e e come si diceva, mi creava terrore. Adesso invece è un qualcosa che l'esploratore dice devi fare. cioè non puoi non farla, ecco, anche se tutti quanti hanno paura, però cioè nello stato in cui sono adesso è una cosa che mi posso ecco permettere perché conosco adesso conosco il mio corpo. Wow, bello, molto, mi fa molto piacere ascoltare queste cose. Ti faccio l'ultima domanda, Paolo. il percorso immersivo aveva tanti aspetti, c'era combinato il corso, le consulenze, le meditazioni, il fatto di sentirci anche al di fuori delle sedute. Il fatto di sentirci al di fuori delle sedute all'inizio è stata una parte più importante, poi sempre meno hai sentito questo bisogno perché sempre di più, come dicevi tu, ti sei messo in quella modalità di esplorare, di verificare sul campo se potevi farcela oppure no. Volevo chiederti anche l'utilizzo che ne avevi fatto del corso, degli incontri di meditazione, ecco, come era stata questa esperienza rispetto diciamo a un classico percorso di psicoterapia dove ti vedi una sola volta alla settimana e poi non c'è più confronto e non c'è materiale in più a casa? Vabbè, diciamo che il discorso della consultazione diciamo via via WhatsApp all'inizio è stato importante perché ovviamente la paura era a 90 come si dice quindi perché poi alla fine ero io quello che andavo sul campo quindi si può dire tutto quello che si vuole però poi io era quello che dovevo mettermi in gioco quindi si creavano delle situazioni nuove per me per cui avevo paura e quindi poi magari l'affrontavo e quindi mi rimaneva la sensazione mi rimaneva che ne so la paura che potesse ricapitare e quindi era importante almeno all'inizio avere una sorta di conferma perché ovviamente la persona che ha terrore che ha paura ha bisogno di conferme che siano giuste o sbagliate quindi era fondamentale diciamo il supporto via via WhatsApp la meditazione diciamo è servita soprattutto per come si dice riguardare quello che accadeva perché nel momento in cui fai meditazione diciamo chiudendo gli occhi diciamo i pensieri sono lì sono positivi negativi eccetera però diciamo nel mio caso ho valutato cioè ho verificato che dopo le prime volte perché è difficile entrare nello stato di meditazione dopo le prime volte sono comunque riuscito a a non farmi sempre più a piano ecco pian piano a non farmi assalire dai pensieri perché nel momento in cui chiudi gli occhi la prima cosa che ti viene in mente è le preoccupazioni poi la seconda cosa è il lavoro poi le cose che devi fare il giorno dopo e il problema è esattamente questo cioè bisogna un attimo staccare la spina e entrare con diciamo con il nostro interno quindi lasciare che che noi osserviamo il cosiddetto osservatore osserviamo i pensieri dall'alto cioè come se fossero come se fossero delle nuvole ecco quindi come se fossero non nostri e poi vabbè il corso diciamo più che altro confermava quello che poi veniva discusso in ogni singola diciamo sessione seduta come la vogliamo ecco chiamare però diciamo che a mio avviso fondamentale è che una volta che si si inizia il percorso bisogna avere il coraggio di andare avanti anche nel momento in cui si sta male perché io sono stato anche male non bisogna avere paura perché è lì che poi c'è il cosiddetto switch cioè nel senso nel momento in cui hai la diciamo la peggiore sensazione se così possiamo definirla è in quel momento che si sblocca tutto perché sembrava che andasse tutto cioè che non non succedeva nulla ecco in positivo in realtà poi man mano che si affrontavano le cose quindi man mano che capivi che la sensazione si stava riducendo è lì che poi è avvenuto la crescita la crescita eccetto è iniziato a risprendere ecco il sole io lo definisco così è iniziato a risprendere il sole wow perché cioè credo che comunque ci siano tante persone come me che magari hanno paura di di mettersi in gioco in realtà cioè la differenza vi ribadisco è avere gli strumenti giusti con le persone giuste che ti guidano e che ti danno ecco coraggio nel nel dire non sei l'unico e ne puoi uscire alla grande Paolo io ti ringrazio per questo tempo che hai dedicato per tutte le persone che possono poi ascoltare un po' quella che è stata la tua storia che tante persone ci si rivedranno alcune saranno bloccate si sentiranno bloccate come eri bloccato tu quando abbiamo iniziato questo percorso e anche loro hanno la possibilità di sbloccarsi crescere migliorare acquisire abilità strumenti che permetteranno loro di tornare a far brillare il sole un po' come hai detto tu il messaggio che hai voluto mandare a queste persone che ci tengo un sacco e credo veramente che ognuno con impegno come hai sottolineato cioè affrontando il fatto che sia richieda impegno che non sia facile ma che ci se la possa fare con lo giusto spirito e il giusto supporto e consiglio e la giusta guida questo si possa raggiungere per chiunque assolutamente sì cioè non bisogna così avere paura della paura la cosiddetta paura della paura cioè non si può ecco essere prigionieri di di fantasie della mente quindi bisogna avere il coraggio di ritornare a vivere la vita che meritiamo e ci sarà inizialmente ve lo dico sacrificio però dopo a mio avviso dopo un mese un mese e mezzo se avete applicato se applicherete correttamente quello che che sono cioè quello che vi viene detto quindi attraverso gli strumenti cioè arriverete ad uno stato di cioè ritornerete a a fare le cose normali cioè della vita quindi quelle cose che poi non vi spaventeranno più cioè e quindi date retta all'esploratore come si dice questo è il messaggio un po' dare retta a quella parte di noi che vuole vedere sul campo vuole sperimentare vuole provare Paolo ti ringrazio tanto se hai qualcosa altro da dire dillo pure se no chiudiamo qui questo questo tuo sì no l'unica cosa che mi sento di dire è che cioè noi non siamo diversi dagli altri perché cioè inizialmente la prima domanda che mi ponevo era perché io ho tutte queste problematiche e gli altri no in realtà però sono cioè basta praticamente avere gli strumenti giusti e si ritorna a fare quello che fanno gli altri grazie mille Paolo grazie mille Paolo